Pietro Vierkovod a tvplaycalciomercato.it ha detto Ho sempre detto che avrei cambiato l'allenatore, penso che il campionato sia stato fallimentare. Tante volte ha fatto delle pessime partite, cambierei Allegri, non i giocatori. Penso che gli Scudetti che ha vinto, Allegri li avrebbe vinti qualsiasi altro allenatore. Non discuto che Allegri abbia anche dei meriti, ma avrei voluto vincere meno Scudetti e più Champions League. In Europa la Juventus ha perso sette finali, lui ne ha perse due. Con il Real Madrid la Juventus non scese in campo nel secondo tempo. Pietro Vierkovod campione del mondo con l'Italia nell'82, campione d'Europa con la Juventus nel 96, campione d'Italia con la Roma e con la Sampdoria. Lo zar sulla carcassa di Massimiliano Allegri. Ma ovviamente queste cose non le sentirete mai dai vari Tacchinardi, Ravanelli, Torricelli, che infatti vengono intervistati e chiamati nelle trasmissioni juventine. Onore a Pietro Vierkovod, onore allo zar, cavaliere dell'Antimax.